e bello so gente ragazzi ragazzi e benvenuti a questo nostro video io sono Alex S3 e benvenuto a un nuovo video infatti come potete vedere un po' abbiamo 769 monete 43 gettoni e tanta tanta roba da speckitare quindi iniziamo subito ok vediamo vediamo malcom prossima niente vado abbastanza veloce perché c'è abbiamo una meraglia da spaghettare forse ma dico forse avevo detto anche in altri episodi forse c'erano due parti lo dico ancora forse in questo episodio ci saranno forse due parti ma dico forse primaldo va bene ovviamente raga questi vabbè non si trovano mai niente giustamente comunque le rare player pack le apro 10 perché 32 cioè 34 non ce la faccio aprirle tutte le apro ben 10 arriviamo 24 la wow proprio zero la prima però la abbiamo già ecco ho parlato eh no è abbastanza scarso però abbiamo trovato anche il 10 però ce la va avanti però fa niente beh è scarsa però non ci avevamo quello là però è scarsa allora prossimo niente niente di niente raga Neymar dobbiamo trovare ecco Neymar oh buono pareccio non Neymar o Messi cioè se cassi due li devo trovare no avanti cioè boh non li trovo però quelli forti ecco lì ecco ho parlato se io parlo faccio bene a parlare li trovo è Marcello 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 89 Marcello bene l'abbiamo trovato anche prima quella normale va benissimo va benissimo un'altra la toglie Alexandra ci mancava ci mancava Alexandra raga sì questo niente addirittura niente mancano ancora 4 pack adesso 3 pack di questi eccolo qua un'altra volta debili almeno stiamo trovando anche nuovi meno quello che è questo Adam ma cioè ormai trova sempre doppioni mi piace ok questi va bene vediamo 81 più players players rari sergi e roberto ce l'avevamo già 81 players 81 più players pack oh diciamo non è questo granché non lo utilizziamo neanche però meglio di niente meglio di niente cioè partiamo sempre in saccoccia niente balotella addirittura balotella però fa schifo l'ho provato fa la sua cosa migliore è attacco fa solo 79 non con 80 io pensavo 80 lì no niente me pensavo che era molto più forte balotelli diciamo tutti pensavamo che era più forte balotelli strotman ma strotman non c'è più nella roma o sbaglio non lo so raga non lo so sono sbagliato non non ditemelo cioè ditemelo perché non ditemelo non ok iniziamo con quelli buoni cioè quelli di prima iniziamo subito benissimo iniziamo pelè 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 tedesco niente ok st 91 close close va benissimo 91 anche un porterone molto buono iniziamo c'è benissimo ancora ancora vediamo scuriamo spagnolo del barsa cdm 88 ed è sergio busquez e fermino buono fermino un'altra volta raga vediamo vediamo un po' polonia della juventus ciasnik 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 raga niente male niente male è l'ultimo vabbè l'ultimo è l'ultimo andiamo su questi quattro gli ultimi quattro qua iniziamo come prima iniziamo subito benissimo anche brasile ci amo come raga ronaldino 89 ronaldino è fortissimo ronaldino un bappé un bappé è bello raga all'inizio pensavo che era pelle però non è che possiamo scurare così tanto pelle se lo trovo spacco tutto ancora ancora dai è pelle è pelle è pelle incrociamo tutte le ditte no non è pelle perfetto chi è questo 90 ok 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 è reus buono l'ultimo pack questo è jumada e niente di che apriamo questi quattro pack no non si basta ora andiamo special box pack perché dico box non lo so vediamo ci sta bello 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 Antonio prima voglio aprire questi dove devo vendere ho paura sì sì ok ancora questi qua sono straforti st 86 ecco ho detto questi qua sono straforti e trovano un'altra in persona oh pack ho trovato pack pack raga in sega stai ma dove stai ma ok va bene giovinco giovinco vediamo questo elite plus non troverò niente però ci proviamo ma nulla invece 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 allora andiamo a venderli paura 300 un milione sappiamo un milione iniziamo con tot 23 packs ah iniziamo assolutamente male povoletti vabbè ce l'avevamo già credo perché PIONTEK PIONTEK PAPAPAPAM CHRISTOPH PIONTEK non ci credo CHRISTOPH PIONTEK oddio CHRISTOPH PIONTEK PAPAPAM vediamo questo vai armonaco cam 88 ce l'avevamo già rodriguez ce l'avevamo già però CHRISTOPH PIONTEK il re dei gol CHRISTOPH PIONTEK eh non trovo più niente raga mi sa che ho finito di scolare però non sapete da quanto io lo voglio da quanto tempo che lo voglio non lo sapete voi non questo icon packs niente 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 non parlo non parlo non parlo non parlo brutto Liverpool LM 87 ma ne pensavo qualcosa di più eh lo ammetto lo ammetto special pack special pack due special pack oh ci siamo saputo bene dai insegni cazzo tedesco Barca GK 89 tier 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 team pensavo qualcosa altro The Gea pensavo no però è qualcuno mi ricordo beh non è finito forse non è finito spacchettamente no lo sapevo altri due no non ce son più special più pack dai qua se non trovo niente eccolo qua ma perché trovo il semplice spagnolo Barca ancora CB 88 picche beh beh ci sono ci sono le picche niente raga no non è finito qua lo spacchettamento ci vediamo quando trovo qualcosa non è finito Grazie a tutti.